E adesso sapete che cos'è questo? Un dentifricio! Un dentifricio speciale, con una formula scientificamente avanzata. Nuovo colgate con fluora MFP. Fluoro? E che cosa fa? Immaginate che questo gessetto sia un dente. E questo fluora MFP. Visto? Fluora MFP si fissa sui denti rinforzandole. Colgate con fluora MFP, con un'accurata pulizia dei denti e con la sua azione igienica, aiuta a prevenire la carie e dà sempre l'alito più fresco. Nuovo colgate con fluora MFP.